Dentella, ha deciso l'ora di ricandidarsi a Colzate? Beh, dopo una serie di incontri e di ripensamenti, pur avendo sempre detto che avrei fatto soltanto un mandato, invece ho cambiato idea e mi sono convinta a ripresentarmi anche per la prossima tornata elettorale. E la sua squadra? Beh, in gran parte ci sono alcuni componenti della vecchia maggioranza, della maggioranza attuale anzi, e abbiamo cercato di allargare il cerchio e devo dire che c'è stata una bella risposta positiva, anche da parte di persone giovani e questo fa piacere vedere questo interesse nei confronti del proprio paese. La caratteristica sicuramente è che ci presenteremo come lista civica, solo ed esclusivamente civica, aperto a tutte le forze, purché si abbia voglia di lavorare e di pensare al proprio paese. E per quanto riguarda il programma? Il programma, siamo in dirittura d'arrivo, è un programma che ha avuto tanti ripensamenti, perché i periodi sono quelli che sono, perché i fondi non ci sono, perché dallo Stato non sai mai niente di preciso come andrà, cosa si prenderà dei soldi, cosa lascerà. Però abbiamo comunque cercato di inserire qualche piccolo sogno nel cassetto e sicuramente con la certezza di convogliare tutto su quello che può essere l'attività sociale e comunitaria del paese, pur avendo anche qualche sogno di natura più di urbanistica, di edilizia pubblica, ma quello dipenderà proprio dalle possibilità economiche. E per quanto riguarda gli anni che si stanno ormai per concludere del vostro mandato, cosa ci può riassumere del vostro operato? Beh, sono stati cinque anni molto intensi, abbiamo lavorato tantissimo, devo dire che comunque il gruppo si è dedicato proprio con anima e cuore a questa attività. In questi ultimi mesi non ci sono grandi opere in giro, a parte la sistemazione che faremo della strada per andare a bondo, anche perché avevamo proprio promesso in campagna elettorale di non fare assolutamente niente gli ultimi sei mesi, perché le attività fatte gli ultimi mesi secondo me non sono da considerare. Abbiamo lavorato tantissimo sulle opere pubbliche durante i primi tre anni, sicuramente con la sistemazione delle scuole, con le strade, con la caldaia della scuola materna, la sistemazione dell'ex scuola elementare anche su a bondo, la sistemazione dell'edificio comunale, il tetto fotovoltaico, ne abbiamo fatti veramente tanti, siamo stati intensi. E poi la nostra attività si è sempre comunque concentrata molto sul sociale e i ragazzi.